ci troviamo sul comunale di ortona e sabato 3 febbraio 2018 giocheranno l'ortona virtus ortona che lo vedete con le maglie ci ha chiamato l'arbera con le maglie gialloverde e da questo lato c'è la virtus casseffrentano con la maglia bianca con i risvolti giallorossi per l'ultima giornata di campionato tredicesima giornata di andata del campionato provinciale giovanissimi girone chieti i nostri ragazzi si stanno riscaldando una serata con un po di vento e freschetto ecco enrico che parte con la maglia numero 11 da questo lato abbiamo i due portieri daniel primo portiere e diego pio dodicesimo è un 2006 viene dagli esordienti il suo secondo debutto nella categoria superiore qua abbiamo anche manuel berardi gabriele alex maramieri mammarella alex matteo ecco fanno il loro rientri in campo c'è ci sarà l'appello qua c'è mister giovanni di giulio siamo tutti carichi e ci vuole con questo freschetto ecco anche riccardo in ultimo l'arne no l'ultimo enrico c'è anche il nostro adriano gian cristoforo facciamo i nostri rientri c'è la conta ragazzi ok grazie grazie